E allora entriamo nel vivo di questa giornata del Web Marketing Festival 2019. Vi abbiamo fatto fare un bel viaggio nello spazio, nell'universo, insieme a Luca Rossettini. Adesso invece sapete che cosa facciamo? Parliamo di robotica e anche di etica. Cioè cerchiamo di capire come la robotica, che tipo di impatto ha la robotica all'interno della nostra società. E lo facciamo con il prossimo ospite del Web Marketing Festival 2019. Signore e signori, Gianmarco Verugio. 1982 esce quello che ormai è considerato uno dei 100 migliori film della storia, un classico, un cut movie di fantascienza, Blade Runner. In quel film si narra il dramma di cinque robot umanoidi, cinque androidi, che si ribellano al loro destino. Quel film sono robot androidi talmente perfetti che è difficilissimo distinguere gli da esseri umani. Quel film è ambientato nel 2019. 37 anni fa hanno collocato ora, in questo momento, questo genere di robot. Come vedete non è facile prevedere il futuro. L'arte spesso indovina, altrettanto spesso, o forse più spesso, sbaglia. E qui ci sono due punti che secondo me sono importanti. Il primo è questa focalizzazione sulla robotica come costruttrice di androidi, sostanzialmente. Questa visione egocentrica dell'uomo che pensa sostanzialmente a replicare se stesso. L'altra, diciamo, è conseguenza del fatto che nel 1982 non c'era internet. Nessuno scrittore di fantascienza ha saputo prevedere internet. E allora lo scenario che abbiamo oggi, nel 2019, è differente. Abbiamo tanti tipi di robot che fanno tantissime cose differenti. Ogni macchina ormai ha dentro un computer, ha dentro del software, è collegata in rete, svolge mille funzioni. E quindi l'immagine che voi dovete avere non è più soltanto quella del replicante. Ma nella mente dovete avere piuttosto un'immagine di questo tipo. Dovete pensare a un'ecologia robotica. Dovete pensare a una giungla dove vi sono tantissimi tipi differenti di animali, insetti, batteri, uccelli, rettili, mammiferi. Allo stesso modo, nell'ecologia robotica vi saranno robot di ogni tipo, che svolgeranno ogni tipo di funzione, come ho detto. E saranno tutti collegati ad internet. Ormai tutto è collegato ad internet. Anche il più banale iPod è collegato ad internet. Non fosse altro che per scaricare gli aggiornamenti software. Anche il frullatore ormai è controllato da un programma che richiede periodici aggiornamenti. È una scocciatura tremenda. Però ormai ci siamo abituati a passare una parte del nostro tempo ad aggiornare tutti i programmi, tutte le app che abbiamo in tutti i vari device che costellano la nostra vita. E quindi lo scenario, ancora per molti anni, non è quello di Blade Runner. Ma è uno scenario in cui si svilupperanno tantissimi tipi di robot, con un modello di mercato che è un po' quello degli smartphone, tanto per fare un parallelo. Cioè avremo delle macchine, in un certo senso general purpose, che poi noi compriamo e personalizziamo scaricando delle app. Per esempio io potrò comprare un robot di servizio e poi usarlo in casa e quindi scaricare app che gli permettono di cucinare, che gli permettono di fare pulizie, che gli permettono di gestire il mio entertainment in casa e così via. Oppure lo stesso robot potrà venire comprato da un ufficio scaricando app che gli fanno svolgere funzioni all'interno di una comunità di lavoro. E quindi per esempio si svilupperà sicuramente qualche sistema operativo, come oggi c'è Android per esempio, e si svilupperà una comunità di sviluppatori di app per robot. Tutto questo ha comunque delle implicazioni importanti dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. Perché se pensate all'impatto che hanno avuto i telefonini, gli smartphone sulla nostra vita, beh, moltiplicatelo per cento, mille, diecimila e avrete l'impatto che svilupperanno questi robot. Che saranno progettati per servirci, ma per servirci meglio dovranno conoscerci. Quindi saranno di fatto macchine che ci osservano, ci analizzano, ci spiano, ci profilano, come e più di tutti i programmi che noi oggi utilizziamo. Ma noi sapete benissimo che qualunque vostra attività collegata alla rete viene profilata, tutto ciò che voi fate va ad alimentare la massa dei big data che poi qualcuno, qualche algoritmo di intelligenza artificiale, di machine learning, utilizzerà per vendervi come minimo dei prodotti, se non peggio. È chiaro che si crea quindi uno scenario estremamente complesso, estremamente difficile da gestire. Già oggi il concetto di privacy ha perso gran parte del suo significato. Pensate quando l'intelligenza artificiale che vi è in rete e che gestisce questi big data avrà milioni, centinaia di milioni, miliardi di occhi, di orecchie che vi circondano. Ma non solo, avrà anche milioni, miliardi di braccia che possono agire sul mondo fisico reale. Quindi l'interazione non sarà più solo un video e una tastiera, ma sarà questo sistema che avvolgerà le vostre vite, creando un'infinità di problemi. Per esempio la privacy, l'ho già citata, ma se ci pensate la perdita di privacy non è solo una questione tra virgolette psicologica, diventa anche una questione di libertà personale. Già saprete che per esempio in Cina si stanno sviluppando dei sistemi di credito sociale per cui l'osservazione delle persone, del loro comportamento, contribuisce a dare un punteggio, un credito sociale a queste persone che viene utilizzato per condizionare la loro vita. Possono viaggiare o non possono viaggiare, possono acquistare o non possono acquistare, possono avere certi diritti civili o non averli e così via. Quindi sicuramente abbiamo una società che cambierà profondissimamente, c'è il problema della perdita del lavoro, c'è il problema che poi è un problema di cambiamento del lavoro, di trasferimento di un certo tipo di necessità lavorative svolte dalle macchine ad altre necessità lavorative. Tutti questi problemi chiaramente richiederanno attenzione. Una riflessione per esempio, parlavo di questa intelligenza difficile in rete, è che altro errore, Steve Blade Runner per esempio, è pensare all'intelligenza come alla nostra intelligenza. Cioè, tutti noi possiamo descrivere una mela, io vedo una mela, descrivo una mela, tu vedi la stessa mela e concordiamo sulla descrizione di questa mela. Per l'intelligenza è più difficile, io vedo la mia intelligenza, tu vedi la tua intelligenza, io non posso vedere la tua intelligenza, posso immaginarla proiettando la mia intelligenza. E quindi ecco che anche nei confronti dei robot noi commettiamo l'errore di proiettare la nostra intelligenza sui robot, certamente si fanno studi di intelligenza artificiale mimetica di quella umana, ma non siamo così vanitosi. La nostra intelligenza non è l'unica intelligenza dell'universo. Anche molto vicino a noi, pensate un alveare, non c'è un calcolatore centrale intelligente che controlla centomila probe, volanti, centomila micro droni che vanno a raccogliere il polline. C'è un'intelligenza collettiva di questo sciame che noi non comprendiamo, non possiamo parlare con questa intelligenza, non possiamo raccontargli i fatti nostri e chiedergli come va. O pensate anche a uno stormo di uccelli. Esistono intelligenze complessissime, differenti dalla nostra. Bene, l'intelligenza dei robot sarà differente dalla nostra. Non è detto che anche nel caso si sviluppassero fenomeni di intelligenza collettiva, di intelligenza connettiva, emerging behaviors, comportamenti emergenti dalla complessità, noi avremo la possibilità di interagire con questa intelligenza come interagiamo tra di noi. E tutto questo scenario che chiaramente pone una sfida grandissima per il nostro futuro per l'umanità avviene in un momento particolare, avviene in un momento che definirei di tempesta perfetta. Perché tutto il nostro modello di sviluppo tecnologico degli ultimi due o tre secoli sapete benissimo che sta andando verso un burrone. Noi dovremmo affrontare drammatici cambiamenti climatici, drammatici cambiamenti demografici, economici, geopolitici che saranno spinti sia da fattori ambientali che da fattori tecnologici. Per esempio blockchain potrà modificare la struttura del mercato finanziario, ma è solo un esempio chiaramente. Addirittura c'è chi si spinge, come leggevo pochi giorni fa Elon Musk, ad ipotizzare la fine dell'umanità nel 2050. Io spero che si sbagli come si sbagliava Ridley Scott profetizzando gli androidi nel 2019, però sicuramente se pensiamo che i robot non saranno solo infermiere, ma saranno anche soldati, saranno robot in grado di uccidere se non li fermeremo, ecco che forse il nostro futuro potrebbe non essere così roseo. E allora qual è la soluzione? Beh, soluzioni facili a problemi difficili normalmente non se ne trovano. C'è una soluzione, l'unica che noi conosciamo, che è quella di occuparci del problema dal punto di vista etico. Quindi, essere noi umani che teniamo in mano lo sviluppo della tecnologia e non lasciamo che la tecnologia si sviluppi virtualmente per conto suo, ma in realtà controllata da corporation, da apparati più o meno militari, da sistemi politici più o meno deliranti, e proceda in maniera dissenata sempre più verso lo stesso burrone. Perché non è automatico il progresso, la favoletta che le sorti magnifiche e progressive, che il progresso va avanti per il bene dell'umanità, è veramente una favoletta, credere in questa favoletta è come camminare bendati. È vero che è difficile prevedere il futuro, perché il futuro è sempre in movimento. Ma perché il futuro è sempre in movimento? È in movimento perché noi possiamo agire sul futuro. Se ci crediamo, possiamo fare in modo che il futuro della robotica, dell'intelligenza artificiale, si orienti verso un vero progresso umano, sociale e civile, e non verso un maggior controllo, sfruttamento o pressione dell'umanità. Quindi ecco che io vi esorto a pensare, a ragionare, a riflettere, a cercare di capire, a farvi domande, a sviluppare spirito critico, perché se un ruolo avrà l'umanità nel futuro, confrontandosi con questa tecnologia stra potente, sarà un ruolo che gli deriva dalla capacità di sfruttare la propria intelligenza emotiva. Non tanto l'intelligenza formale, che magari ormai viene superata in velocità, in potenza, dalle macchine, ma l'intelligenza emotiva, la capacità di intuire, la capacità di sognare, la capacità di progettare, la capacità di comprendere gli esseri umani che ci circondano per sviluppare una società migliore di quella che purtroppo vediamo intorno a noi oggi. Grazie.